Positano pulita grazie al lavoro di tante persone che stanno a H24 ovviamente, ovviamente, ecco qua pure Luigi ovviamente allora, quello che vogliamo dire è che ci stanno persone che stanno lavorando veramente a H24 che con un flusso turistico e con tante cose che ci sono a Positano è evidente che è impossibile, è quasi una corsa, no? la gente è sporca e poi correte presso la gente è tipo come la mattina si sveglia e tutto il resto poi dicevamo, prima abbiamo visto, ecco noi vogliamo parlare di attento con gli operatori abbiamo visto una spiaggia grande, abbiamo fatto un po' in giro che ci stavano, i tre bidoni ci stavano messi e questi faccio i complimenti però non ci si fa la scritta plastica, come mai? Che era successo? c'era, c'era la scritta no, ma è stata tolta, quella voglio dire, la gente è pure in civile e hanno mischiato tutto però state qua a lavorare con il vetro, la carta, tutte le cose che c'è e purtroppo mischiano tutto ma ci sta qualcuno pure la domenica a lavoro, oggi è sabato noi lavoriamo sempre hai detto prima H24 va bene, grazie non prendiamo giornate di riposo, nulla grazie, grazie mille questo voglio dire grazie anche a alcuni grazie grazie